Danneggiato ancora una volta il mosaico più grande del mondo, quello di Indicatore. Un'auto, infatti, questa mattina ha avarcato le transenne della chiesa di Santo Spirito ed ha fatto saltare alcune tessere. Una porzione dell'opera è così andata distrutta. A raccontare l'accaduto tramite social, non senza amarezza, è stata la stessa Andreina Giorgia Carpenito, artista che ha realizzato lo straordinario lavoro nel corso degli anni. Una macchina ha avarcato le transenne, scrive su Facebook, gli altri siamo noi, sono le parole suggerite da un'amica davanti al mio dispiacere. Iniziato nel 2009, il mosaico, noto anche come la visione di Ezechiele, si sviluppa in un'area molto estesa che include le zone interne ed esterne alla chiesa di Indicatore, insomma un vero e proprio progetto colossale al quale hanno preso parte in questi anni artisti e volontari provenienti da ogni angolo del pianeta. Purtroppo però negli anni sono stati numerosi danneggiamenti subiti dal mosaico, dal maltempo sino agli incidenti stradali, tutte difficoltà superate però grazie alla passione e alla perseveranza di Andreina.